2 8 è cresciuto è pure lui è passato in seconda qui ragazzi qui quest'anno abbiamo da da stappare molte bottiglie di spumante perché il passaggio in seconda bisogna brindare il padre sta risparmiando un po' questi mesi perché dovrà portare qualche bottiglia allora hai sentito oggi non colpire forte ma sentire no colpire colpire ma sciolti la palla deve andare veloce ma il braccio deve andare tranquillo capito invece le tue sensazioni su che stai lavorando passa più sto lavorando sul rovescio essere più sciolta all'impatto e andare avanti con lasciare andare avanti la puntata si ultimamente mi sto tornando bene soprattutto da ieri da quando ha scoperto la punta della racchetta prima muoveva il braccio non la racchetta e quindi belle sensazioni e se con la racchetta esce più fluida perciò bene